gentili telespettatori ben ritrovati con il tg della comunità della vallagarina oggi vi presentiamo una bella iniziativa si tratta di una campagna informativa per la raccolta differenziata dei rifiuti che copre tutta la valle e nelle case delle persone che abitano nella vallagarina arriveranno delle schede piene di informazioni quali sono gli obiettivi appunto per i prossimi anni sia per le discariche per la raccolta differenziata che per i rifiuti prodotti pro capite ma guardi in vallagarina più di dieci anni fa conferivamo 50 mila tonnellate all'anno in discarica di rifiuti non differenziati oggi siamo abbiamo una quantità che è minore ai 21 mila tonnellate l'obiettivo è quello di arrivare nel 2018 ad avere una produzione pro capite chilogrammi abitanti equivalenti intorno agli 80 90 chilogrammi se il trend è quello che ha contraddistinto questi anni ci riusciremo sicuramente. La chiusura della discarica dei lavini? La chiusura di discarica dei lavini è prevista per il 2015 abbiamo presente che già dal gennaio di quest'anno la provincia ha assunto la gestione diretta della discarica proprio per dar corso alla politica provinciale che è quella di arrivare entro il 2018 alla chiusura di tutte le discariche della provincia. Assessore Roberto Bettinazzi un'iniziativa che punta non solo a migliorare la raccolta differenziata ma proprio a produrre di meno rifiuti. Sì abbiamo voluto cercare di mettere in campo anche tutta una serie di un percorso di sensibilizzazione per migliorare i comportamenti virtuosi dei cittadini quindi gli eco acquisti e gli eco vigili sono un segnale chiaramente chiaro di quello che è il messaggio produrre meno rifiuti per poter avere meno rifiuti da conferire in discarica e quindi chiaramente migliorare l'ambiente. I nostri cittadini sono bravi come tutti i cittadini non possiamo dire il contrario e chiaramente dobbiamo mettere in campo delle azioni perché diventino ancora più bravi e questo dipende da noi e questo percorso di sensibilizzazione vuole proprio fare questo mettere in condizione i cittadini di avere un segnale delle informazioni chiare su come comportarsi. Giulia Pizzini presidente di H2O+, la società che ha creato questa campagna informativa. Avete preso come simbolo un cuore perché? Abbiamo preso come simbolo il cuore perché il cuore dà un messaggio assolutamente positivo e di amore verso il proprio territorio quindi è un messaggio per dire fare la raccolta differenziata è un atto di amore verso il proprio territorio Quindi si premiano gli atteggiamenti virtuosi e non si castiga, si rovescia la logica Sì diciamo che abbiamo voluto adottare la filosofia della carota più che del bastone perché è molto più importante appunto dare atto a una persona che è stata brava e quindi ha attuato un comportamento virtuoso piuttosto che punire chi invece non lo fa che è diciamo la strada più semplice è molto meglio creare un senso di comunità e un senso di sforzo comune verso un obiettivo comune piuttosto che punire chi verso quell'obiettivo non vuole arrivare e così abbiamo fatto anche con gli accovigili nelle scuole di cui abbiamo parlato qualche settimana fa il progetto che stiamo portando avanti con i bambini invece Cosa arriverà nelle case dei cittadini della Vallagarena? Arriverà un pacchetto contenente delle scade informative un riciclabolario quindi un dizionario dei rifiuti con il cassonetto nel quale ogni rifiuto va conferito e un calendario che riporta i giorni di raccolta e un'informativa per i cittadini stranieri Grazie 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 Grazie